Certo pure lui ha fatto qualche errore Ma anche quando società e giocatori sbagliano paga sempre l'allenatore Sto caso non fa eccezione Aurelio cerca miracoli Vuole conquistare trofei e titoli Sperava Carletto ce la facesse ma non va così No 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 Niente ritiro la rosa fa mutinamento Oh 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 Sei rotto qualcosa da quel momento lo so Fra lì di risultati e di caso di insignia il Napoli sbanda Oh no De la fa capir chi comanda Carletto Paga la crisi del Napoli Che in campionato va rotoli Dalla lotta a Scudetto è già fuor Carletto Non basta gli ottavi di Champions League Vedi i tifosi di Napoli Ti portano comunque nei loro cuor Ti portano comunque nei loro cuor Carletto La 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 Carletto Ti portano comunque nei loro cuor Ti portano comunque nei loro cuor Grazie a tutti